Ultimo giorno di mercato, il DS Luca Leone prova a ritoccare la rosa, in particolare nel reparto arretrato a centrocampo. Continua la trattativa con la Salernitana per il centrale difensivo Luca Bogdan, Croato, classe 96, gialle dipendenze di Lucarella, Livorno e Catania. Per il centrocampo continuano a circolare i nomi di Paolo Bartolomei della Cremonese, Francesco Di Tacchio della Salernitana e Federico Viviani della SPAL. Capitolo uscite, il Cosenza spinge per l'attaccante Simone Mazzocchi, cartellino di proprietà dell'Atalanta, mentre il difensore Modibo Diachite interessa al Messina. In bilico potrebbe esserci qualche altro over in caso di nuovi arrivi che verranno definiti in queste ore. Ripresa degli allenamenti oggi all'antistadio in vista di Ternana Reggine in programma sabato con fischio di inizio alle 14 al Liberati. Con i tre recuperi tutte le squadre hanno disputato ormai 20 gare nel campionato di Serie B. La Ternana ha 24 punti come il Parma e ha più 4 sull'Alessandria, battuta 2-1 a Vicenza e ha più 7 sul Cosenza, quarto ultimo che ha pareggiato invece 1-1 a Cittadella.